Torna a Trieste il teatro civile, il teatro di narrazione, un genere se vogliamo molto italiano che ha in alcuni interpreti i propri esponenti di punta. Una di essi è senz'altro Laura Curino che sarà alla Sala Assicurazioni Generali del Politeama Rossetti con Scintille, un testo scritto e diretto da Laura Siciniano. Sulla in scena Laura Curino racconta la drammatica storia di quattro donne di quattro operaie e camiciaie coinvolte nel rogo di una fabbrica new yorkese il 25 marzo del 1911. Moltissime donne morirono bruciate perché? Perché mancava un oggettino grande così di ottone che c'era già e costava pochissimi dollari, che era un rivelatore di fumo, ma si pensava che anche quei pochi dollari non si dovessero spendere per le donne. Spettacolo veloce ed intenso Scintille riconferma, ma davvero non c'era bisogno, la grandezza di un interprete che sa partecipare a quanto racconta fermandosi sempre prima di risultare esagerata e riafforza il ruolo sempre più specifico del teatro nei confronti di alcune tematiche sociali. Far capire agli spettatori che siamo qui, dentro questa storia è che ognuno di noi è chiamato a farsi il proprio film della storia.